Abbiamo presentato il plastico di una opera da realizzare in project financing. A dire la verità è stata fatta già tutta la procedura, ossia il bando per l'aggiudicazione e anche l'aggiudicazione. Il contratto sarà sottoscritto tra qualche giorno e si tratta di far realizzare 490 posti auto su vitri sul mare con un investimento di 7 milioni di euro di cui il comune non ne spenderà nemmeno uno però diventerà immediatamente proprietario della struttura. La gestione avverrà per 30 anni a favore della ditta che realizzerà questo intervento che ripeto prevede 490 posti auto in due siti con due livelli, cioè due piani e tre livelli di parcheggio. Abbiamo il sito, se volete riprendere, abbiamo il sito giù alla scuola media laddove la parte superiore prevederà non solo dei parcheggi ma prevede anche un'area attrezzata dal punto di vista sportivo con un campetto polivalente di tennis, di calcetto, di pallacanestre e di pallavolo e con i relativi spogliatoi sotto che sarà una palestra scoperta a supporto della scuola media e negli orari extracurriculari ovviamente sarà utilizzata per tutta la cittadinanza vitresa. Qui sono previsti 355 posti auto di cui 92 in box che potranno essere rivendute anche a terza. C'è poi la risalita verso la piazza con un piccolo ascensore che collegherà per recuperare la differenza di quota la parte sottostante con la parte superiore della piazza. I primi 34 posti auto che saranno realizzati vedranno la liberazione definitiva di Piazza Matteotti che diventerà il salottino di vitri eliminando le 34 auto che attualmente ci sono. L'altra parte di parcheggio è all'intersezione tra la discesa dell'autostrada, la rampa di uscita dell'autostrada con la strada statale provinciale che porta a Cava. Lì subito dopo il ponte dell'autostrada c'è un arancetto sulla destra e lì sorgerà questa struttura. Sono due piani con tre livelli di parcheggio con il livello superiore scoperto così come nell'altro caso e sono altri 35 posti auto più 12 posti per pullman di cui 9 stanziali e 3 a rotazione. È un intervento che alla fine dovrebbe risolvere definitivamente il problema parcheggio a vieti sul mare e contemporaneamente far imporre vietri come zona di interscambio per l'intera costiera amalfitana perché con 12 posti di autobus abbiamo la possibilità di creare un percorso, una mobilità alternativa con navette o qualcos'altro. Questo progetto viene collegato anche ad altro progetto che è stato finanziato che è quello del vettore meccanico che prevede il collegamento dalla stazione ferroviaria fino a Piazza Matteotti. Quindi si va a completare un intervento di riqualificazione di un'intera area con la liberazione della Piazza Matteotti e con principalmente la risoluzione di quello che è il problema parcheggi. Problema parcheggi che è fondamentale, vitale anche per la nostra economia, per il commercio ma principalmente viene dato a costo zero per l'ente un servizio ai cittadini e ai tanti turisti che arrivano su vietri sul mare senza che il comune investa soldi ma al contrario patrimonializzando l'ente stesso. Devo dire che i tempi di realizzazione sono molto molto limitati, un anno massimo, un anno e mezzo dal momento in cui inizieranno i lavori anche perché, proprio perché l'investimento del privato, il privato ha l'interesse a realizzare al più presto l'opera per mettere a reddito l'opera stessa. Nel frattempo, ripeto e ribadisco, il comune pur non investendo un euro diviene proprietario della prima pietra dal momento in cui viene posto fino all'ultimazione dei lavori. L'impresa aggiudicataria ha già prestato la cauzione, fra qualche mese o fra qualche giorno sarà firmata la convenzione, entro 60 giorni devono presentare il progetto esecutivo, entro 90 giorni dalla presentazione del progetto esecutivo devono acquisire i pareri. Se tutto va bene, per l'inizio dell'anno prossimo dovrebbero iniziare anche i lavori. Posso aggiungere che praticamente è già stata fatta una conferenza di servizio preliminare, la sovrintendenza ritiene che per quanto riguardi la struttura con i 355 posti non dovrebbero esserci problemi. Qualche problema di un migliore inserimento lo potrebbe creare quello più piccolo dei 135 posti altri, ma sono dei problemi trecnici che ritengo possano solversi e che certamente non potranno pregiudicare la realizzazione del loro. È uno stravolgimento, è una rivoluzione di quello che è il sistema di sosta e di parcheggio e di viabilità che stiamo apportando nel Comune di Vietri. È una mobilità integrata tra vettori meccanici, zona di interscambio e diciamo nelle prospettive, nei ragionamenti che sta facendo l'amministrazione, è previsto anche, ma non c'è nulla né di scritto né di studi di fattibilità, la possibilità di collegare con una teleferica la parte sottostante del parcheggio di 355 posti auto con la frazione marina. Sarebbe una funicolare perché con una cosiddetta ovovia non abbiamo altra possibilità di intervento perché c'è il costone roccioso che rientra nelle zone ad alto rischio previste dalla ordinaria dei bacini e per il cui consolidamente sarebbe bisogno di 2-3 milioni d'euro, per cui si è pensata ad un collegamento su FUNI. Io ritengo che quest'opera con me sarà certamente realizzata, con altri non lo so, ma metteremo anche a fuoco e studieremo meglio questo collegamento con la frazione marina su FUNI. Spero che ci sarà un giorno in cui ci sarà il tutto che funzioni con la metropolitana leggere che abbia la testa o il terminale qui a Pietri sul mare, il vettore meccanico che scende a Piazza Matteotti, il parcheggio utilizzabile e la funicolare FUNI a Marina. Questo è un modo alternativo di collegamento di territorio. FUNI. 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 Grazie a tutti